Buongiorno e ben ritrovati da Stefania Bonomi, martedì 18 luglio, un'altra giornata caldissima ci aspetta, ma prima delle previsioni del tempo vediamo chi festeggia oggi l'onomastico, oggi l'onomastico lo festeggia Sant'Emiliano, martire, al tempo dell'imperatore Giuliano nel 362 il vicario Capitolino si reca a Durostoro in Mesia, l'attuale Romania, per restaurare il paganesimo, il giovane Emiliano Cristiano rovescia l'altare e distrugge gli idoli per i sacrifici, perciò viene condannato al martirio. Ed eccoci alle previsioni del tempo. Ancora molto molto caldo, la situazione comunque di tempo è stabile e soleggiato sulle Marche, le temperature purtroppo sono ancora in aumento, arriveremo fino a 38-39 gradi nell'entroterra, un pochino più umidi sulla costa. Abbiamo così nei prossimi giorni temperature che variano dai 35 per arrivare fino a sabato a 39 gradi, oggi il sole è sorto alle 5.41 e tramonterà alle 20.44. Buongiorno e naturalmente come facciamo tutte le mattine, anche oggi andiamo a collegarci con i bagni, si chiamano Bagni Marino 1958 ed andiamo a collegarci con Ivano Biasiolo, il nostro hospitality director. Buongiorno Ivano. Buongiorno Stefania, buongiorno a tutti. Allora, un'altra splendida giornata, ma più che splendida direi caldissima. Croccante. Assolutamente, perché poi tra le altre cose la nostra rassegna stampa oggi inizierà proprio a parlare di Caronte, ma quindi parliamo anche con voi di questo caldo, come stanno affrontando i turisti questo caldo torrido? Sicuramente facendo tanti bagni, per fortuna l'acqua è sempre più bella, qui siamo abituati a uno standard di acqua molto limpida e pulita, quindi adesso sta tornando agli standard alti a cui siamo abituati e facendo tante docce, anche quello, ma bevendo anche tanta birra. Anche perché forse le docce sono più fresche in questo momento dell'acqua del mare, immagino. Sì, assolutamente, sono molto più fresche. Abbiamo un'acqua molto molto calda. Ivano, allora, ieri parlavamo un po' del turismo, volevo sapere, visto che immagino che la sua esperienza è decennale in questo settore, com'è cambiato rispetto a dieci anni fa il turista, proprio il turista che frequenta il vostro stabilimento? Allora, diciamo che l'effettivo cambiamento si è avuto dal Covid in poi, perché fondamentalmente prima erano più turisti locali, diciamo per la maggior parte. Dopo il Covid abbiamo visto che insomma sono aumentate moltissimo le presenze dal Veneto, dall'Umbria, dalla Toscana e poi da quest'anno, soprattutto, tantissimi turisti stranieri. Che ne abbiamo parlato ieri, infatti. Esatto, esatto, esatto. Evidentemente le marche stanno diventando una meta anche per i turisti stranieri che si spostano magari dalle classiche Toscana e Umbria e sporano, vengono verso l'Adriatico, ecco. Ecco, parlando sempre di turismo straniero, molto interessante, perché abbiamo detto che in questo periodo il turismo straniero è molto presente. Qual è lo straniero, cioè il più, diciamo, conciliante? Qual è il miglior turista straniero? Da dove arriva? Beh, questa è una domanda difficile. Devo dire che tutti quelli che abbiamo avuto fino ad adesso, fortunatamente, sono gentilissimi e super disponibili. Magari c'è qualcuno più pretenzioso rispetto al francese, rispetto all'inglese, rispetto al tedesco. Ma, diciamo che loro sono molto abituati ad essere al servizio, vogliono alti standard di servizio, quindi diciamo che forse l'olandese, ecco, è il più gentile, il più sorridente. Paesi del nord. Non posso dire perché. Sì, 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 però devo dire che gli olandesi sono di una squisitezza infinita. Sente, Vano, noi parliamo sempre di turisti inglesi, francesi, e lo spagnolo? Eh, spagnoli non se ne vedono tanti. Non frequentano, forse perché... Hanno tante località meravigliose in Spagna. Hanno da tante località meravigliose, certo. Vanno più forse le città d'arte. Eh, sì, immagino. A proposito di città d'arte, visto appunto che siamo collegati con una zona d'Italia meravigliosa, che cosa può consigliare al turista nei dintorni di andare a visitare? Beh, sicuramente tutta l'entroterra, anche della provincia di Ancona, è meraviglioso. Ci sono dei paesi stupendi. Mi viene in mente Osimo, Offagna. Mi viene in mente... Poi, comunque, ci sono un sacco di strutture stupende anche nelle campagne. E poi, comunque, anche la zona qui sotto il Conero, per esempio, mi viene in mente Recanati, no? Che è un posto stupendo, una cittadina meravigliosa. Quindi, diciamo che un turista che viene qui ha un milione di possibilità per vedere cose belle e stare bene. Certo, sia mare, quindi, località marittime, che località dell'entroterra. Benissimo. Io, Ivano, per il momento la ringrazio. Avremo modo di parlare ancora di tanti argomenti. Domani ne ho uno particolare. Ne parliamo poi domani mattina. Non mi anticipi niente? Ma io volevo parlare un pochino anche di enogastronomia con lei, Ivano, domani. Un po' a sapere... Ah, benissimo. Esatto. Poi parleremo anche di altre cose. Benissimo, Ivano. Io la saluto, la ringrazio naturalmente e ci vediamo domani mattina. Grazie a voi. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Bene. E ci ritorniamo da Numana. Ritorniamo, invece, nel nostro territorio. Andiamo a vedere la nostra rassegna stampa di questa mattina. Allora, partiamo dal resto del Carlino e vediamo un po' il resto del Carlino. Cosa ci propone? Abbiamo un titolo di testa, la tragedia di un padre 48enne, la tragedia di un padre 48enne, fulminato da un malore a rientro da una gita in bici. E poi abbiamo ancora, sempre titolo di testa, centrale, comune, una voragine di 47 milioni e la stima dei crediti che sarà difficile portare in cassa. Di queste multe sono tasse e multe non pagate. Fotonotizia centrale, i danni di Caronte. Saldatori, marmisti, gommiste e tanti altri, quelli che l'AFA la prendono addirittura doppia. Laterale a Fermignano, la chitarra più grande d'Italia e, portandoci su Fano, il PM chiede 5 anni e il Bullo scoppia a piangere. Sempre brevi di cronaca, balli non autorizzati, musica oltre l'orario, stangati due locali fronte mare, e carico di coca da un corriere per il pizzaiolo e suo cugino. Fondo pagina, una notizia di sport, colpaccio della VL, firmato Scotch-Banfort. Andiamo nel vivo degli argomenti ed ecco qua, abbiamo il caldo veramente torrido di questi giorni, aiutare anziani e fragili, spesa portata a casa e il taxi pulmino per andare alle visite con la calura micidiale, anche prendere un tram può essere un'impresa, così l'Auser ha organizzato il trasporto sociale. Ecco come si prenota, qui c'è tutto l'articolo per i viveri recapitati a domicilio, pensate, ne usufruiscono già 27 famiglie. E andiamo invece direttamente a Fano, poi torneremo su Caronte e il caldo che viene poi visto dal Corriere Adriatico in prima pagina. Fano, Basilica di Vitruvio, spuntano nuovi indizi, dagli scavi è emerso anche un pilastro. Secondo gli archeologi, gli ultimi ritrovamenti confermano l'ipotesi di un importante e imponente edificio dell'epoca. L'architetto romano parla di questi elementi che si trovano dietro le colonne, ancora però non rinvenute. A Fano si torna a sognare la Basilica di Fano di cui Vitruvio parla nel De Architektura ed è un sogno sempre più vivido. Dopo appena tre settimane dalla ripresa degli scavi, nell'ex cantiere edile del centro storico, gli archeologi hanno fatto un'altra importante scoperta, portando alla luce i resti di un pilastro in calcestruzzo del diametro di 90 cm. Questo è stato trovato nel sito archeologico dove si ipotizza anche la presenza della Basilica di Vitruvio. Ed invece purtroppo un atto vandalico ha imbrattato il monumento alle donne del mare. L'opera di Roberti in fondo al molo di Ponente è stata sfregiata con la vernice L'ira di Turiani che dichiara è una vergogna. Sfregiata da un amore irrispettoso, scritte bianche e cuoricini blu sono stati disegnati da magni ignote sulla scultura collocata in fondo al molo di Ponente che Getullio Roberti ha dedicato alle donne del mare. L'occasione è stata la tempesta del 1964 in cui la moglie e moglie dei marinai fanesi dispersi hanno atteso in vano il ritorno dei loro mariti con i figlioletti in braccio, sfidando la tempesta che si gli era portati via. Ultimamente questa situazione dei monumenti che vengono sfregiati o rovinati è sempre tra le prime pagine dei giornali e questo è veramente un peccato perché bisognerebbe portare molto rispetto a tutto quello che è il patrimonio del nostro territorio. Restiamo a Fano ed invece passiamo ad ispettori del comune in comune al setaccio computer e banche dati. Ci sono i funzionari in questi giorni del MEF Economia e Finanze che sono in città per controlli di routine e non su richiesta in qualche organo specifico potrebbero fermarsi per molto tempo l'ultima volta che hanno fatto questo risale a 16 anni fa quindi girano per svolgere attività di verifica amministrativa e contabile sembra si tratti di controlli non effettuati su richiesta da qualche organo specifico ma di routine a cui sono sottoposti periodicamente i comuni. Insomma il clima è tranquillo in municipio con i dipendenti che hanno messo a disposizione dei funzionari ministeriali tutto il materiale. Ed ecco che riprendiamo la notizia di prima pagina sempre a Fano il bullo ascolta la requisitoria e scoppia in lacrime. Quando ha sentito il PM chiedere la condanna a 5 anni di reclusione l'imputato è scoppiato in lacrime. Alla fine il giudice lo ha condannato a 2 anni e 10 mesi ma quei 20 minuti di Camera di Consiglio sono stati più lunghi della sua giovane vita. Dal basso dei suoi 19 anni appena compiuti si è visto bruciare i prossimi 5 anni dietro le sbarre di una cella. Lui è un 19enne marocchino che assieme a due minorenni e una ragazzina si sono spacciati per i fili dei poliziotti e hanno così rapinato dei coetanei di soldi e droga nella zona di Poderino un fatto che risale al 2022. Siamo sempre sul resto del Carlino e ci spostiamo sempre a Fano con 8 milioni di lavori la statale si fa il tagliando questi sono gli interventi in partenza sulla strada 424 della Val Cesano che collega Marotta a Cagli passando per Pergola sopra luogo di Baltelli con i tecnici di Anas. Notizia sportiva in Val Cesano lo sport marottese ha dato l'addio a Festus tanti ex compagni di squadra ed anche il vice allenatore della Nazionale dei Volley al funerale del 31enne ganese morto in un incidente. Ci spostiamo a Urbino dalla musica antica e jazz si accende l'estate ricco calendario di eventi ad Urbino e nei centri limitrofi 18 concerti dal 19 al 28 luglio quindi anche la festa del Duca dall'11 al 14 agosto ricca di eventi l'estate urbinati tanti e per tutti i gusti dalle feste tradizionali a festival musicali dalle sagre agli eventi di antica tradizione sta per iniziare quindi Urbino musica antica che dal 19 al 28 luglio avrà ben 18 concerti che invaderanno il centro storico di strumenti rinascimentali e barocchi tra virtuosi solisti e affermate ensemble e sempre a Urbino riprendiamo la notizia di prima pagina la chitarra più grande d'Italia è in piazza questa chitarra sarà per 4 giorni il simbolo dell'evento che Fermignano dedica alla musica con 13 artisti ospiti dal 20 al 23 luglio anche a Fermignano arriva un fine settimana a tutto volume infatti dal 20 al 23 luglio tornano in paese i Rock and Roll Live Days manifestazione organizzata da Gnano Bull e Sport Spettacolo con il sostegno del Comune e Proloco saranno ben 13 gli ospiti musicali che animeranno Piazza Garibaldi per un evento gratuito ancora una notizia sul resto del Carlino ci spostiamo a Fossombrone ospedale ora Bartoli si dimetta progetto comune con testa lettera in regione la scritta di testa sua senza alcuna autorizzazione è il comune che chiede le dimissioni di Marco Bartoli il tema è la sanità e il caos belli è una lettera di Bartoli al suo omologo in regione in questa lettera scriveva Bartoli come presidente della commissione speciale dell'ospedale di Fossombrone ho inviato al presidente della quarta commissione sanità e politiche sociali Nicola Baiocchi una richiesta di emendamento al piano sanitario regionale 2023-25 con l'obiettivo di modificare la parte che riguarda i servizi previsti negli ospedali di comunità l'ospedale di Fossombrone infatti all'interno del piano è inserito tra tali strutture le quali per poter dare risposte adeguate i bisogni di salute dei cittadini residenti nelle zone di riferimento necessita di avere al suo interno determinati servizi e passiamo a vedere invece il Corriere Adriatico il Corriere Adriatico parte immediatamente apre la prima pagina con Caronte soffoca anche il lavoro nelle aziende si modificano gli orari per sfuggire al Caldo Re con turni unici anticipati condizioni più difficili per gli operatori nei cantieri e o si finisce a mezzogiorno o si lavora di notte l'articolo lo troviamo a pagina 4 eccolo superati i 40 gradi ora più personale nei pronti soccorsi ieri nelle Marche Caronte ha portato un incremento medio della temperatura di 9 gradi rispetto a domenica il suo cuore bollente ha fatto superare la soglia dei 40 gradi a San Severino Marche e il picco massimo nel Pesarese a Sasso Corvaro Auditore siamo arrivati a 39 gradi valori elevati che raccontano di un caldo intenso che gli esperti avvertono sarà a Foso oddio è destinato a intensificarsi oggi e domani sono giornate da bollino rosso tanto che il centro funzionale multi rischi prevede che la temperatura massima percepita sarà ad Ascoli Piceno e a Macerata dove toccherà i 39 gradi il potenziamento proprio di rispondere ai maggiori accessi dovuti al caldo record perché abbiamo veramente un caldo incredibile e c'è l'intervista poi all'esperto che dice a BTA abituiamoci a questa normalità non si tratta solo di picchi di temperatura ma di importante modifiche nei regimi idrologici con un aumento di frequenza dei fenomeni di precipitazioni estrema come accaduto lo scorso settembre proprio nella nostra regione sembra opportuno considerare nuove modalità di gestione territoriale torniamo sempre in prima pagina e vediamo la fotonotizia lite sull'armocromia della Baia e poi andiamo ancora alle brevi di cronaca pesaro antenna non ancora attiva in Diabeccaria spostatela subito discariche esaurite sempre a pesaro 16 anni prima con rifiuti speciali e a Fano arte da condividere riprogettato il palazzo del museo fondo pagina coca blizza al parcheggio con arresto e sequestri in manette un pizzaiolo il cugino e il corriere la polizia trova nascosti in auto tre etti di droga entriamo nel vivo di quello di cui abbiamo appena parlato in azienda nuovi orari per sfuggire il caldo turni unici anticipati negli stabilimenti si interviene con ventilatori o tenendo le porte aperte condizioni difficili per chi sta all'aperto o si finisce alle 12 o addirittura si lavora di notte proprio perché il caldo sta veramente diventando insopportabile sempre restiamo sempre a Pesaro sorprese al parcheggio con tretti di coca pizzaiolo e cugino arrestati con il corriere nascosto in casa all'interno di una cassaforte la polizia scopre 32 mila euro in contanti e andiamo subito a vedere la nostra Fano culture e arte da condividere rivisitato il palazzo del museo il progetto si presenta oggi alle 21 e 15 alla corte malattestiana estesa la fruibilità è in programma questa sera alle 21 e 15 alla corte malattestiana la presentazione del progetto del nuovo museo civico della pinacoteca della città il progetto redatto dalla società Sinopia SRL di Deruta si propone di rilanciare il museo del palazzo malattestiano inseguendo tre grandi macro obiettivi la completa accessibilità alle sale espositive la digitalizzazione e l'attualizzazione dell'infrastruttura culturale dal punto di vista architettonico si interagisce anche sulle strutture della corte nelle sue molteplici funzioni tra spazi aperti e chiusi un luogo di frequentazione quotidiana e il sindaco Seri siamo tornati alle nostre origini e parla ancora della bellissima manifestazione che si è tenuta ossia la Fano de Cesari soddisfazione per il successo della Fano de Cesari vittorioso la origa Faustus la Fano de Cesari anche quest'anno è riuscita ad emozionare a coinvolgere 2000 cittadini che hanno animato le vie del centro e l'anello del Pincio anche quest'anno abbiamo offerto alla città un programma di eventi ricchissimo ha detto il sindaco Massimo Seri nelle vesti dell'imperatore Cesare Augusto ed è veramente suggestivo riuscire a portare in scena una manifestazione come la Fano de Cesari in un luogo come questo del Pincio davanti all'arco d'Augusto che ci ricorda proprio le nostre origini sempre a Fano Aspo al posto dell'ambito i sindaci sono d'accordo via libera la proposta di Tinti da Sorcinelli Guidarelli Zenobi e Sebastianelli parola ai sindaci sulla trasformazione dell'ambito territoriale sociale 6 in azienda per i servizi alla persona dedicare una seduta delle civiche assise alla sola gestione delle politiche sociali nel frattempo il comitato dei sindaci si è riunito in media due volte al mese un confronto continuo costante e ora in corso un approfondimento tra le aree contabili dei comuni per addivenire ad un accordo sui temi economici credo che l'azienda per i servizi alla persona argomenta Simona Guidarelli sindaco di Pergola sia la forma più efficace per dare risposte al sociale Valmetauro tornano i furti di biciclette nel mirino le costose e bike colpi segnalati in vari luoghi a Fano anche in pieno giorno passiamo ancora in Valcesano Cesanese 8 milioni da ANAS rete più sicura ed efficiente l'assessore regionale Baldelli illustra gli interventi sul programma della statale e ancora pesca con la tratta rievocazione e festa in spiaggia da venerdì a domenica appuntamento al Molo Arena di Marotta purtroppo il nostro tempo vorrei leggervi ancora tante altre notizie ma purtroppo il nostro tempo oggi è terminato io naturalmente vi do appuntamento domani sempre con le prime informazioni del mattino l'appuntamento con l'informazione torna alle 20 e 30 io vi invito a rimanere con i programmi di Fano TV buona giornata grazie a tutti